In questi giorni uno qui tra voi mi ha detto l'avervi incontrato mi ha cambiato la vita in meglio e ci ha ricordato ancora una volta quanto grande sia la nostra responsabilità. Oggi sono qui e vi guardo e penso che abbiamo fatto qualcosa di grande perché in vent'anni abbiamo costruito una realtà che ha cambiato la vita di chiunque e mille persone. L'età esatta della mia vita è stata dedicata al progetto Rete Casa Carmigliano di Brenta. Per noi non è un punto d'arrivo, è una partenza, è un trampolino per mettersi sempre in gioco, per voler fare meglio il nostro lavoro e dare un servizio a chi si divulge a noi al massimo. Nel limite dell'umano loro cercano veramente di portare i sogni a diventare realtà. Come una persona così trasparente, bea, interessante, professionista, penso che sia un pochissimo. E anche il suo staff. Penso sia un numero di uno. E veramente da fare un grande applauso. Io ho conosciuto Giorgia circa 2004 e da lì ho visto insomma la tempra di una ragazza che non si sarebbe fermata a fare qualcosa di semplice, ma aveva costruito qualcosa di grande. Il sogno che tu hai coltivato è diventata una bella realtà che sta crescendo in maniera importante. Fare il 30% della provvista immobiliare in un momento così credo sia straordinario. È un risultato, credo, impressionante. E la tua squadra e il tuo team hanno dimostrato che questo è possibile. Con la vostra capacità si può arrivare anche a questo. Io questo, di questi vent'anni, lo porterò come esempio perché dà forza anche agli altri. Grazie a tutti voi per quello che state facendo per Carmignano. Noi ci siamo e voi continuate a esserci. Grazie a tutti. Grazie a tutti